Per l'umore inevitabile che sia c'è tanta delusione, abbiamo fatto tutto il possibile per presentare la domanda e per essere ripescati. Guardando la comunicazione della FGC abbiamo visto che alla fine eravamo mortali per cui matematicamente eravamo non ripescati, con il seguimento del picerno e del fano per cui siamo stati in classifica, un dato di fatto che non potevamo essere ripescati. L'unico obiettivo è quello di conquistare sul campo quello che abbiamo perso sul campo il 2 di maggio, quello di riconquistare subiasi ricci sul campo.